buongiorno sono francesco a comando responsabile artistico dei progetti didattici di teatro club udine lascio la parola per il consueto saluto al presidente di teatro club alessandra pergolese buongiorno a tutti e benvenuti al terzo incontro del progetto la vita al tempo del covid il suggestivo titolo della conferenza di oggi evoca l'immagine di un abbraccio fraterno che sarebbe confortante ritrovare non solo nella dimensione religiosa dell'invocazione collettiva del divino ma anche in quella laica della solidarietà civile la più efficace delle protezioni dai flagelli che si abbattono sull'umanità nei corsi e ricorsi storici arrivederci al prossimo appuntamento e buon ascolto grazie alessandra la vita al tempo del covid questo è il nome di un progetto basato su una nuova sinergia tra teatro club udine e le scuole superiori di secondo grado di udine e provincia quattro conferenze a supporto dell'attività svolta dagli insegnanti con i propri studenti in ambito curricolare spunti stimoli a partire dall'intreccio tra letteratura e storia riguardo le pandemie per comprendere da dove veniamo chi siamo e decidere dove andiamo dopo le conferenze seguiranno attività di laboratorio di ricerca e infine una giornata conclusiva nella quale gli studenti saranno protagonisti con le loro idee le loro riflessioni le loro voci la loro creatività il progetto è realizzato con il sostegno della regione autonoma fiuli venezia giulia e la collaborazione con il circolo fotografico fiulano l'associazione on art l'associazione culturale mulino nord est la biblioteca civica ioppi e udine rete libri le biblioteche scolastiche per questa terza conferenza abbiamo con noi angelo floramo docente scrittore saggista e consulente scientifico della biblioteca guarneria di san daniele del friuli titolo della conferenza libera nord domine la peste in friuli tra medioevo ed età moderna una comunicazione di servizio al termine dell'intervento del relatore ci sarà un momento per alcune domande da parte di insegnanti e studenti le domande dovranno essere scritte in chat e verranno rilanciate a voce da me al relatore potete scrivere le vostre domande già durante la conferenza la parola a angelo floramo un giorno buongiorno a tutte e a grazie della vostra partecipazione per me è un grande piacere cercare di condividere con voi un percorso che sarà questo è un po giocare con le carte scoperte un una ricerca un approfondimento soprattutto sull'immaginario collettivo cioè su quell'idea su quel quelle paure quei sogni o quegli incubi che il senso del della peste di questo male impalpabile pure terribile comunico ai nostri antenati soprattutto tra il periodo dell'età medievale e quella che poi è l'età moderna io mi aiuterò con un powerpoint quindi per cercare di illustrarvi al meglio alcuni passaggi e anche per utilizzare l'iconografia che per quanto concerne questo tema è ricchissima nella nostra regione voi sapete sapete benissimo che il libro di storia più accattivante più bello è proprio il territorio dentro quale noi viviamo perché su questo territorio si sono sedimentate tutta una serie di suggestioni di evidenze di tracce che devono essere lette devono essere interpretate cercheremo di sviscerarle cercheremo di dare loro una voce ma potrà essere complesso ma spero anche nello stesso tempo appagante perché attraverso queste chiavi noi cerchiamo di raffigurarci il pensiero il pensiero profondo degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto in questa età così interessante allora io provo adesso a darvi una benissimo un dovrebbe funzionare si dovrebbe vedere quindi una visualizzazione del del nostro percorso allora libera nos domine la peste in friuli tra il medioevo e l'età moderna come copertina vi ho scelto un'immagine che è straordinaria anche nella sua inquietudine è una stampa bellissima di durer grandioso autore forse uno dei dei più grandi dell'età moderna e che rappresenta i quattro cavalieri dell'apocalisse che sono appunto come li vedete rappresentati la guerra la fame vedete la peste ovviamente no e la morte che li riassume li riassume tutti è stato detto che questa 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 invocazione libera nos domine può anche ricondurci ad un ad una dimensione non necessariamente religiosa ma molto umana i nostri antenati friulani la storiavano questo libera nos diventava un libera in us detto in friulano cioè liberateci salvateci da questi quattro temibili cavalieri che come cercheremo anche poi di dire nel corso di questa nostra passeggiata non ci hanno mai del tutto abbandonati e continuano anzi ad infestare le plaghe di questo mondo anche vicino a noi una prima considerazione le pandemie di peste che hanno maggiormente flagellato il nostro territorio sono state principalmente quattro io ve le ho poi semplate scegliendo alcune miniature alcuni affreschi oppure anche delle occorrenze che sono tipiche della nostra terra allora in alto a sinistra vedete esemplata la peste di giustiniano siamo intorno al cinquecento e quarantuno siamo nel pieno sviluppo di quella guerra terribile che fu la guerra treco gotica forse ricorderete l'imperatore bizantino giustiniano cercava di ricompattare il mondo e l'impero riconquistandolo soprattutto la componente dei goti e questo spostare di eserciti queste masse disperate di contadini che si trovavano i villaggi bruciati le donne violate le campagne completamente sovvertite vissero anche la terribile esperienza della peste poi sentiremo proprio verso la fine di questo percorso una testimonianza bellissima estremamente drammatica che ce ne dà il nostro paolo di varme frido meglio noto come paolo di acono nella sua historia lango bardoro e poi a seguire il 1348 la peste nera che qui vedete rappresentata in tutta la sua impressionante evocazione con la sua falce le ali da pipistrello il cavallo nero e il dardo che colpisce lasciando sul corpo dei segni inequivocabili la peste del 1348 è per intenderci la peste cantata dal boccaccio era una peste di tipo polmonare non era una peste bubonica e quindi per questo forse ancora più insidiosa e per certi aspetti molto più simile alla terribile pandemia che noi oggi siamo il nostro malgrado costretti a vivere perché si trasmetteva anche per via aerea ovviamente e poi il 1511 un anno strategico importante per per il friuli è l'anno della crudelzoiba grassa è l'anno in cui nasce probabilmente forse ve ne hanno parlato il mito friulano di romeo e giulietta le due grandi famiglie contrapposte quasi di capuleti e montecchi in terra friulana il pro repubblica di venezia da una parte il pro impero dall'altra ancora una volta guerra che produce carestia la carestia induce un abbassamento delle difese immunitarie e questo ovviamente aiutava il morbo e poi la peste manzoniana quella del 1629 1630 e per rappresentarla vi ho inserito una piccola edicola della peste che si trova proprio nella periferia di san daniele poco prima dei campi ed è interessante perché come come si può notare queste testimonianze non venivano soltanto raccolte da dotti commentatori ma diventavano parte del territorio diventavano quasi dei segni sensibili in cui la popolazione poteva in qualche maniera ritrovare la memoria del dolore ma anche trasformarla se volete sublimarla in quella che noi definiamo oggi una pietà popolare fatta anche di tanti riti di tanti gesti di tante consuetudini che appunto entravano a far parte dell'immaginario allora questa immagine è curiosa vi do un dato intanto è un'immagine tratta da miniature che rappresentano la prostituzione soprattutto in ambito medievale e moderno perché ve la faccio vedere gli statuti gli statuti della nostra regione penso gli statuti di gemona in maniera particolare ma anche tante altre occorrenze che ritroviamo negli archivi della nostra terra mettono in evidenza come la categoria che maggiormente riusciva a sfuggire all'epidemia di peste era quella delle prostitute le merettrici perché perché le amministrazioni comunali sottolineavano con grandissima attenzione la necessità di garantire salubrità e pulizia ai luoghi del merettricio questo ci può anche strappare un certo sorriso no che può essere può diventare birichini nel senso che se le statistiche sono vere penso in particolare la peste nera del 1348 che flagellò moltissimo la nostra regione su dieci persone ne sopravvivevano tre del 70 per cento in alcuni casi è l'indice di mortalità spaventoso artissimo di queste tre persone sopravvissute quasi sempre una era una prostituta proprio perché noi lo sappiamo la peste si trasmetteva ormai l'abbiamo anche imparato da studi recentissimi non tanto attraverso la pulce che passa dal topo poi all'essere umano quanto attraverso i pidocchi e le prostitute non ne avevano proprio perché come vedete qui rappresentato dall dall'immagine si sottoponevano anche a delle abluzioni a delle pulizie che erano controllate scrupolosamente dai medici e visto che a me piace insomma presentare lo faccio anche i miei studenti la storia come un grande patrimonio di riferimenti critici e insomma questa storia insegna tanto a coloro che vantano illustri pedigree oppure purezze di sangue se è vero che dopo un'epidemia di peste il 30 per cento della popolazione sopravviveva e il 10 per cento di questo 30 per cento erano prostitute vuol dire che insomma non esiste casa blasonata che possa in qualche modo sfuggire alla beffarda e cinica resata della storia teniamo conto anche di questo io non sono convinto che la storia sia una grande maestra di vita ci giocava jacques le goff un grande medievista dicendo non perché la storia non sape insegnare ma perché siamo noi che siamo cattivi studenti non sappiamo imparare nulla però insomma ecco alle volte ci regala qualche cosa su cui meditare su cui pensare questa questa è un particolare dell'edicola di cui parlavamo prima a san daniele siamo intorno al 1405 e questa ancona della peste così così si chiama come vedete gli elementi tipici caratteristici della pietà popolare ci sono tutti soprattutto vengono evidenziate alcune figure di santi ai quali la pietà popolare faceva sempre riferimento pensando la peste qui si vedono ancora meglio ci troviamo nella meravigliosa scenografia di quella che viene giustamente chiamata la piccola cappella sistina del friuli e cioè la chiesa di sant'antonio abate sempre a san daniele del friuli esemplata da pellegrino da san daniele eccoli qua questi sono i tre personaggi che tra medioevo ed età moderna vennero assunti come i santi della peste o i personaggi che in qualche maniera la sapevano meglio rappresentare san sebastiano job e san rocco tutti indicanti come vedete delle macchie o dei buboni o delle escrescenze sul loro corpo causate o dalla maledizione di dio nel caso di job punito messo alla prova questo è interessante anche no dal testo biblico lui uomo di grande pazienza ma messo alla prova da una sorta di gara tra il demonio e dio che cercano di capire se davvero job è un uomo pietoso troppo comodo dice il diavolo pensare che job possa essere fedele se gli va tutto bene prova a mandargli qualche disgrazia e dio sta al gioco del diavolo è una pagina dell'antico testamento ricca di mistero questo lato oscuro della divinità tra l'altro e tra le varie piaghe che dio gli manda ovviamente c'è anche questa devastazione del corpo e del fisico attraverso i buboni san sebastiano lo sappiamo viene trafitto dalle 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 frecce che in qualche maniera esemplificano il bubone stesso e san rocco vedete rappresentare vedete rappresentato con il cappello tipico da pellegrino e il bordone da pellegrino ed indica proprio la lesione all'interno della coscia indice appunto dell'infezione ma il mondo antico che il medioevo e l'età moderna rivisitarono rilessero apprezzarono e dal quale ovviamente appresero moltissime suggestioni ci presenta la peste ce la descrive molto spesso come una sorta di inclinazione della salute dell'universo lucrezio nel del erum natura questo è un incipit preso da un manoscritto guarneliano bellissimo questo è nea doom genetrix alma venere dice lucrezio tu che sotto gli astri che scorrono in cielo popoli il mare ricco di navi e la terra che arrecca le messi attraverso di te infatti ogni stirpe di viventi e concepita e scorge nata la luce del sole te odea te fuggono i venti e le nubi del cielo il tuo giungere per te la terra creatrice sparge il suono di fiori per te sorride la piana del mare tornato il sereno brilla il cielo di luce uniforme meraviglia splendido bellissimo questo è l'universo che gode di piena salute vivificato e attraversato e innervato dalla bellezza dell'eros rappresentato da venere che anche la compostezza che anche la misura che anche tutto ciò che permette di perpetuare la vita nel mondo ma ci suggerisce quasi lucrezio se l'equilibrio in qualche maniera viene interrotto ecco che invece subentra la devastazione in un altro passaggio lucrezio ci offre una delle spiegazioni più delle illustrazioni più impressionanti dell'epidemia e della pestilenza questo tipo di morbo ci racconta il flusso mortifero sparse i campi di cadaveri nel regno di cecrope antico re d'atene vi ricordo mitico re d'atene e devastò le strade vuoto la città di abitanti infatti provenendo dalle parti più interne dell'egitto dove era nato il morbo dopo aver attraversato vaste regioni di cielo e fluttuanti distese marine usa le stesse parole di prima significativo ma prima è un mondo che vive nella sua interezza nella sua bellezza nella sua pace adesso c'è qualcosa che non funziona perché il morbo si abbattè infine soprattutto la gente di pandini e allora a mucchi cadevano preda della malattia e della morte all'inizio avevano il capo bruciante di un ardore infuocato ed ambedue gli occhi per un bagliore diffuso questa faccia che cambia che muta si trasforma in un'espressione febbricità le fauci nere inoltre nell'interno sudavano sangue e ostruito di piaghe il passaggio della voce si serrava e la lingua interprete dell'animo stillava gocce di sangue fiaccata dal male impacciata nel movimento ruvi dal tatto poi quando la forza della malattia attraverso la gola aveva invaso il petto ed era affluita fin dentro il cuore afflitto dei malati allora davvero vacillavano tutte le barriere della vita è straordinario come lucrezio e questa questa forte sensibilità trasmette in pieno al medioevo e poi a tutto il 500 e anche al 600 insista sulla disumanizzazione cioè il morbo come vedete anche nell'espressione iconografica del dell'immagine rappresentata il morbo ti disumanizza e quindi non solo ti stravolge la facies l'aspetto che ci permette di comunicare immediatamente ai nostri simili nelle nostre emozioni le sensazioni gli sguardi ma la voce stessa che ci rende umani la parola con la quale noi comunichiamo anche l'emozione il pensiero viene asciugata stravolta funestata dal morbo stesso e per chiudere le fonti lo stesso ovidio ce ne parla non delle metamorfosi riprendendo esattamente le stesse sensazioni e le stesse considerazioni che poi ci fa ci fa l'ucrezio parla di un cielo che in qualche maniera diventa corusco ci sono dei lampi ci sono delle comete dei passaggi che diventano indice segno di qualche cosa che sta mutando segno proprio quello di cui generalmente parla la medicina e qui entriamo proprio nel merito nel vivo di questa di questa chiacchierata nel senso profondo che vorrei in qualche modo comunicarvi oggi c'è una precisa corrispondenza nel mondo antico nel mondo medievale poi anche tra quello che è il macrocosmo e il microcosmo macrocosmo e tutto ciò che ci circonda dentro il quale noi viviamo il teatro e la scenografia mirabile sulla quale dentro la quale noi esseri umani assieme alle piante agli animali alle stelle viviamo la nostra consapevolezza cioè attraversiamo le strade della nostra vita del nostro essere qui sulla sinistra io ho inserito un'immagine che io trovo splendida ho saccheggiato ovviamente per questa chiacchierata i repertori della biblioteca guarneriana ma è un'immagine tratta da un tresor di brunetto latini maestro di dante e come vedete qua c'è un po tutta immaginazione anche la costruzione ideale dell'universo dantesco che ci rappresenta appunto il macrocosmo l'universo con al centro la terra ma soprattutto i quattro elementi la terra l'acqua l'aria il fuoco e poi ovviamente gli erranti le stelle così citate già da lucrezio e da orazio come indice segnale di una malattia o della salute dipende dai casi e quindi l'errante della luna di mercurio di venere del sole di marte di giove di saturno e poi alla fine il cielo delle stelle fisse delle stelle ferme il firmamento e tutto attorno gli angeli troni principati serafini cherubini e la magnificenza delle stelle questo è il macrocosmo indicato nella nella stampa che voi vedete accanto da una sorta di divinità panica è un pan questo una sorta di personaggio mitologico metà capro e come vedete metà umano trasformato anche con ali e con bastoni e con tutta una serie di orpelli tra cui il suo famoso flauto che è dotato di tante canne quanti sono i cerchi e le sfere del cielo perché per ciascuna di queste sfere c'è una musica una musica che si esprime un'armonia ecco questo è l'elemento importante con il cosmo il macrocosmo dentro il quale noi viviamo rispecchiati e ci ritroviamo rispecchiati può godere di ottima salute nel momento in cui tutto rimane perfettamente armonico e la nostra terra il nostro friuli attraverso il patriarcato di aquileia attraverso i secoli del patriarcato di aquileia accolse tutte queste suggestioni le fece sue entrate nel meraviglioso contesto della della basilica di aquileia lasciatevi prendere dalla navigazione in questo oceano mare rappresentato da uno dei più grandi pavimenti musivi con i mosaici che esistano al mondo e ritroverete questo tipo di suggestione ritroverete questi segnali il pastore così cantato dei grandi commentatori della chiesa di aquileia che tiene in mano le stesse caratteristiche di queste divinità ereditate dal mondo classico e che cristianizza in qualche modo un messaggio che però è molto più antico e che parla di stelle che parla di corna di luna di arranze di transumananze direbbe dante e di musica soprattutto di musica di simmetria e di salute e di bellezza che possono essere presenti solo ed esclusivamente se macrocosmo e microcosmo cioè se uomo e universo dialogano insieme riescono a trovare una consonanza una stessa voce i grandi commentatori ebraici la comunità ebraica che viveva ad aquileia fin dai primi secoli mi ricordo gli studi di un grande nostro intellettuale friulano gilberto persacco che è stato insomma tra i primi assieme a guglielmo viasutti ad affrontare l'argomento di quanto sia stata importante questa componente ebraica nel cristianesimo primigenio di aquileia insomma misero in evidenza tutti questi commentatori dei testi sacri biblici che continuavano a giocare sulla perfetta corrispondenza tra il microcosmo l'uomo il corpo dell'uomo e il macrocosmo l'universo stesso la mano che ci fa umano che si fa umani il pollice opponibile no direbbero gli scienziati che già diventa una mappa del mondo un'indicazione di una sorta di grande gioco dell'oca e di rimandi in cui vedete la suggestione l'uomo vitruviano prima ancora che leonardo lo rappresentasse nella sua perfezione umanistico rinascimentale all'interno del cerchio c'è già ha una sua dimensione diversa sacrale se volete ma è già la perfetta corrispondenza tra tutto ciò che è grande e tutto ciò che è piccolo e allora proprio nella dimensione nostra interessante aquileiese friulana e allora è possibile trovare delle mappe delle mappe cosmiche che sono anche mappe corporee che ci permettono di capire quando l'ordine di questa mirabile simmetria viene alterato quando il fuoco l'ignis vedete l'acqua la terra l'aria in qualche maniera si scompongono alterano la loro composizione i loro contrari dispongono male gli umori che generano dentro la nostra complessione dentro il nostro sistema così precario e bellissimo fragile proprio per questo meraviglioso della nostra salute producendo la malattia che è sempre una perfetta corrispondenza tra la malattia del cosmo dell'universo e la malattia del singolo equilibrio non c'è soluzione di continuità non ci sono spaccature c'è sempre una consonanza molto forte per questo esisteva la necessità dai tempi più antichi ed arcaici di tatuarsene queste cose queste mappe del dell'universo sul corpo riusciamo un attimo dal friuli andiamo nella zona in cui è stato riscoperto ozzi famosissima mummia europea insomma sono rimasti stupefatti gli antropologi quando hanno trovato il corpo di questo errante del del paleolitico cosparso di mappe indicanti proprio con ogni probabilità come ci dice l'antropologia comparata la capacità di leggere nei segni del mondo anche i segni del proprio corpo per cui questo è bello l'uomo stesso il corpo stesso dell'uomo diventa una mappa dell'universo ma provate a pensare alla vostra testa alla calotta cranica che rappresenta il cielo ai due occhi che sono gli astri più luminosi il sole e la luna a tutti e quattro gli elementi che ritrovate nella vostra stessa faccia l'aria che respiriamo o che ascoltiamo perché il suono è un battito di aria l'acqua che ritroviamo nella nostra saliva sotto la nostra lingua nella deglutizione nei baci che ci scambiamo il fuoco basta semplicemente toccarci la faccia sentire la pelle avvertiamo il fuoco e la vita sicuramente quindi ecco tutto questo diventa un interessante elemento che si ripresenta e qui io faccio vedere un rapporto importante con quanto stiamo dicendo con un documento un documento che apparentemente sembra molto lontano dalla nostra considerazione ma che in realtà è vicinissimo adesso vi spiego anche perché si tratta di una cronaca che ci racconta come i principi della valacchia venissero presentati alla popolazione nel momento stesso della loro incoronazione del della loro cerimonia di investimento feudale e questa cronaca si riferisce nel 1439 niente po po di meno che diremo con un coup de théâtre visto che il teatro club che ci introduce in queste passeggiate a vlad il dragone cioè vlad zeppes quello che poi diventerà più noto come dracula no a 27 anni il principe ereditario della valacchia viene presentato alla folla secondo un rituale strepitoso che quasi sintetizza quello che abbiamo appena detto e cioè sul suo corpo si possono vedere tatuati i segni del macrocosmo sul suo petto cioè l'immagine del santo sole e della santa luna sulle sue spalle due stelle che formano la costellazione di venere e nea doom genetrix abbiamo proprio cominciato citando la venere con con lucrezio gli stessi emblemi che poi ritorneranno nel vessillo della valacchia il corpo del principe diventa un corpo mistico beh noi questa descrizione ce l'abbiamo per un in virtù di un vescovo orbitante nel nel campo di aquileia un vescovo che si trovava quindi soggetto al patriarca di aquileia e che viene mandato dal papa pio secondo in delegazione a budapest dove vlad zeppes si trova imprigionato perché cerchi di rendersi conto di che cosa sta succedendo di come mai un grande oppositore dei turchi venga preso prigioniero da un re cristiano come re d'ungheria dell'epoca che era mattia corbino altro quindi riferimento altro collegamento con la storia della nostra regione ma nell'immaginario collettivo il vampiro è colui che trasmette la malattia per contagio trasmette la malattia del del vampirismo per contagio prima che bram stalker alla fine dell'ottocento lo trasformasse in un best seller l'idea di questa malattia che corre e per contagio si trasforma e si trasmette era presente anche nelle nostre campagne friulane quando carlo ginsburg grande indagatore dei rituali arcaici che erano presenti nelle nostre campagne friulane viene a mettere il naso negli archivi della santa inquisizione trova delle suggestioni infinite da questo punto di vista parte addirittura da una citazione di un lupo mannaro sante il lupo come sempre però in ogni pandemia che si rispetti sia essa fisica sia essa legata ad un bacillo oppure una maledizione del cielo o prodotta da elementi oscuri come appunto la presenza di un vampiro bisogna trovare dei capi capi espiatori ecco per quanto riguarda vlad zepes si produrrà un ribello che poi sarà alla base della sua leggenda nera purtroppo qui da noi in europa il capo espiatorio è dato dalla presenza proprio delle comunità ebraiche e questo purtroppo segna l'inizio di un di un percorso che poi condurrà fino ai cancelli di auschwitz tristemente e oltre quasi che le comunità ebraiche presenti sul territorio fossero coloro che aiutavano a trasmettere il male in qualche maniera ma allora come possiamo riuscire a curare il male del cosmo del macrocosmo e il male del corpo il nostro microcosmo ciò dice paradossalmente un ebreo isaq iudeus un medico eccellente che lavora nel dodicesimo secolo e che lascia nella biblioteca che poi sarà di guarnerio e quindi nella biblioteca di san daniele un testo uno straordinario liber dietarum un libretto sulle diete in cui indica con grande attenzione come è possibile giocare con gli umori che si sono ammalati nel nostro corpo attraverso l'utilizzo di diete che non solo mettono a posto lo scompenso del nostro corpo ma in qualche maniera ritrovando la giusta comprensione la giusta sovrapposizione tra aria acqua terra e fuoco di cui siamo composti noi di cui è composto l'universo potrebbero anche rispecchiare un ordine che lentamente si ricuce e si ricostituisce nel mondo intero come a dire e questa cosa è modernissima che il bene dell'individuo è anche il bene dell'universo della natura il bene della natura è il bene dell'individuo ancora una volta vedete che il corpo diventa una mappa su cui segnare punti in cui intervenire sui quali intervenire e come faccio io che vivo in un contesto così complesso così difficile fatto di tante sovrapposizioni tanto che poi l'uomo d'otto ha bisogno anche di mappe che abbiamo visto rappresentate nei manoscritti per esempio per riuscire ad orientarmi ad evitare che ci siano alterazioni che poi portano al male portano la pestilenza e queste mappe vengono rappresentate sulle chiese anche sulle facciate più belle delle chiese della nostra regione questa è la chiesa di santa maria assunta a gemona dove ormai credo sia stato dimostrato la meraviglia che voi vedete altro non è che una mappa cosmica per cui questi rosoni rappresentano le transizioni equinoziali ai piedi di questo enorme gigante san cristoforo adesso vedremo l'importanza del santo per la peste vengono rappresentati i solstizi il solstizio d'estate il solstizio d'inverno in una simbologia l'astice e la sirena che poi ritroviamo dai mosaici di aquileia in avanti ma e quindi io guardando la meraviglia lo stupore di una facciata di una chiesa anche presente nell'agro aquileiese anche presente qui nella nostra regione posso in qualche modo trovare dei suggerimenti che mi spiegano mi istruiscono come evitare come scappare come fuggire dalla possibilità dell'epidemia sì e la funzione di cristoforo in questo è nella sua stessa tradizione arcaica che è di per sé stessa magica rituale san cristoforo non è un santo che esista nel nel martirologio nei racconti dei martiri in realtà è un personaggio mitico è un cinocefalo un gigante che ha la testa di cane o la testa di lupo come vedete qui espresso addirittura in un'icona della chiesa orientale e il cane il lupo in qualche maniera hanno a che vedere con la peste sempre nella facciata della chiesa di gemona i tre re i tre re magi dormienti o i tre re magi veglianti rappresentano una costellazione che come ci dicono gli antichi era foriera di epidemie e di peste della costellazione di orione la famosa cintura le tre stelle di orione rappresentate dai tre re e la stella del cane la stella di sirio dagli antichi spesso viene rappresentata come foriera di pestilenze assieme ovviamente anche tutti gli altri segni che scrivono nel cielo la storia del mondo le comete le eclissi le spaventose manifestazioni delle tempeste e un gigante che ha la testa canina non ricorda forse così tanto da vicino quella nubi degli egiziani che era proprio il dio che conduceva dall'altra parte dell'acqua esattamente come cristoforo le anime dei morti trasmigrandole attraverso la sua conduzione verso l'aldilà verso i mondi dell'aldilà uno dice ma è tutto questo si legge all'interno della realtà friulana beh insomma io ricordo che la chiesa madre di aquileia era quella alessandria d'egitto quindi d'egitto non è caso in cui i saggi ebrei alessandrini che vivevano di questa grande cultura alessandrina nella biblioteca di alessandria stessa avevano raccolto tutto questo insieme di suggestioni che diventano patrimonio folclorico questo bellissimo disegno rappresentato da alessandro dosualdo che uno dei grafici e anche dei ricercatori più interessanti della nostra della nostra terra noi vediamo per esempio come venivano rappresentate certe divinità o semi divinità abitanti il monte canin quindi una delle montagne più curiose e ricche di riferimenti magici della nostra regione sono le aganes del monte canin queste fatte d'acqua che vengono rappresentate all'incontrario rispetto alle immagini che abbiamo visto finora no la stella di sirio e del cane sono sono dei cani con la testa di donna non dei corpi maschili con la testa con la testa di cane e nella tradizione folclorica si ritiene che sentirle guaire o abbaiare durante la notte era sicuramente annuncio di qualche malattia o di qualche presagio di pestilenza o di epidemia cane lupo animali inquieti animali della notte che insozzano e con il loro morso esattamente come avviene per il contagio dell'epidemia portano il male questa è un questo è un preento curiosissimo i parenti erano delle formule magiche che venivano recitate contro la nebbia e contro il terremoto anche contro i lupi e questo in un friulano del 1450 lo si trova in un cartiglio realizzato per la chiesa di di ceresetto vicino a fagagna in questo in questo cartiglio noi troviamo una sorta di scongiuro contro il lupo sarebbe interessante leggerlo in friulano ma non abbiamo tempo ed è molto complicato ma vi dico semplicemente che insomma il lupo viene accusato di essere presente nelle nostre comunità soprattutto per contaminare il sangue questo è davvero curioso esattamente come il morbo esattamente come la peste e colui che viene morso dal lupo ovviamente non solo si contamina ma anche contamina gli altri in queste forme di cui abbiamo parlato e che sono censite anche dagli archivi della nostra inquisizione friulana e che mettono sempre in evidenza la ferinità del morso del lupo e la trasformazione dell'uomo in un essere inquietto destinato poi a morire per la malattia che il lupo gli dà non solo perché spesso lo trasforma in versi pelle cioè in lupus ominarius in un lupo assetato di carne affamato di carne umana quindi lupus ominarius in un lupo mannaro ma perché lo trasforma davvero in una appestato che contaminerà qui siamo sempre su bellissime stampe di durer contaminerà il resto del mondo attraverso i suoi morsi che si perpetueranno nel corso del tempo mantenendo vivo il male e noi tornando proprio alla storia della nostra gente ritroviamo che uno dei una delle testimonianze più antiche questo bellissimo evangelario del del sesto secolo addirittura ha scritto alla mano di san marco l'evangelista impossibile perché ovviamente san marco non operava nel sesto secolo ma negli anni chiaramente 70 ma troviamo dicevo una di queste testimonianze più belle più importanti legate alla peste e alla trasmissione della peste e all'immagine del lupo perché secondo la tradizione qui siamo negli affreschi della cripta della chiesa madre di aquileia quando san marco giunse per la prima volta nel territorio di lupogliano lignano ma lupogliano terra di lupi incontra due personaggi ulfila e atahulfo vi ricordo che entrambi portano dentro di sé il nome di wolf esso cioè di lupo vulfila e atahulfo sono malati come vedete qui sono appestati e san marco che un terapeuta che un guaritore li li salva attraverso un rito un rito che è fatto non soltanto di contagio contro il contagio cioè li salva toccandoli ma anche impostando dei balli dei balli che noi oggi potremmo definire sciamanici saltando attorno a dei circuiti che erano precostituiti e guardate qui ormai siamo arrivati quasi alla fine ancora qualcosa di più di cinque minuti balli che noi ritroviamo rappresentati in questo gioco strano tra la vita e la morte eh esemplato proprio nelle chiese delle rogazioni nelle chiese cioè eh che i nostri antenati frequentavano cantando libera no sdomine a fame bello tempestate peste no liberaci del signore dalla fame della guerra della peste dal eh dalla tempesta dalla grandine da tutto ciò che ci fa male e queste eh immagini in particolare sono tratte da una danza macabra bellissima che si trova poco lontano da da Trieste siamo a Frastoli attuale Slovenia ma all'epoca terra del patriarcato di Aquileia esemplate proprio nel 1348 eh come la più nota danza macabra di Pinzolo io sono la morte che porto corona e che ritrovate poi in tutti i laudari anche friulani in cui la morte viene rappresentata proprio come sinonimo della peste e che diventa non si diceva all'inizio pietà popolare rogazione ma anche circuito danza danza eh mistica danza sciamanica testimoniata eh anche nei secoli successivi Giorgio Mainerio questo eh negromante mago maestro di cappella del patriarca di Aquileia eh nel 1578 scrive questo primo libro dei balli in cui ci racconta di fatto ci testimonia di queste musiche che avrebbero dovuto essere utilizzate proprio per fugare la paura della peste e non è un caso che insomma Branduardi Angelo Branduardi ne abbia presa una forse purtroppo per Mainerio dico insomma perché poi venne completamente snaturata eh la famosa schiarazzola marazzola che eh forse avrete sentito in più di qualche rappresentazione eh medievale e che appunto sono io la morte signora e padrona eh con un Branduardi che quindi ruba il testo a Pinzolo e la musica a Mainerio e ci fa anche una discreta fortuna ecco questo è un altro esempio qui siamo un poco più a dentro all'Istria siamo la Santa Maria delle Lastre l'autore la scuola è sempre la stessa come vedete eh papi imperadori cardinali gransignori santi giusti e peccatori fa la peste raguagliare eh insomma è abbastanza evocativa e questi sono eh questi sono i segni le tracce eh le cronache che ci raccontano di come all'interno delle nostre chiese soprattutto cimiteriali continuassero ad avvenire anche nel 1600 anche nel 1700 queste processioni eh qui in particolare ci vengono raccontate dalla Abate Canciani in un'opera bellissima eh in cui lui va anche a disegnare i contesti e qui siamo a Mereto di Tomba e a Savalons per intendersi morte e vita eros eh musica eh non mi soffermo sui riti della doppia morte ce ne sono tantissime di testimonianze di questo di questo tipo sapete che moltissimi bambini anche morivano prima del battesimo anche a causa del della peste stessa e eh esistevano queste queste forze eh telluriche sciamaniche evocate all'interno di alcuni luoghi come per esempio la Madonna di Trava in cui il bambino veniva fatto rinascere proprio attraverso canti di questo tipo che non servivano solo per la peste ma per tutto il eh passaggio delicato tra la vita e la morte. Le api incantate eh dal canto e dai tamburelli producendo la cera del eh la cera delle api con la quale si facevano eh le candele avrebbero aiutato gli esseri umani nei periodi di pandemia a ricostruire a ricucire questo rapporto interrotto con la magnificenza del creato attraverso la luce e attraverso il profumo come ci viene raccontato da un meraviglioso saggio il De Conservanda Sanitate è una specie di trattato di fitness del 1444 ehm di un medico amico di Guarnerio eh d'Artenia che gli lascia appunto anche questo manoscritto qui vedete actum et completum cioè finito di scrivere a Udine Utini nel 1444 il 30 di ottobre da me Geremia dice dottore nella civiltà di Udine e qui salariato. Finisco. Abbiamo parlato eh di rimedi eh legati alla luce legati al profumo legati alla ricomposizione degli umori beh pochi purtroppo conoscono la figura di questo nostro friulano trapiantato a Roma siamo nel 1500 Muzio Frangipane che si guadagnò la fama in Francia per essere uno dei più grandi maestri profumieri. Ecco lui era convinto che il profumo eh avrebbe potuto eh tenere lontano perfino il morbo della peste lo scrive anche eh ci viene raccontato che i suoi profumi avevano queste capacità e non è un caso che insomma eh eccolo qua questo che eh i medici dell'epoca girassero con questi becchi all'interno dei quali venivano inserite delle essenze profumate perché si riteneva che il profumo capace di ricostituire gli gli umori messi eh in scompenso dalla malattia dell'universo e quindi della malattia dell'individuo potessero essere eh in qualche modo un aiuto. Eh quale grande impressionante consonanza tra i nostri tempi, le maschere dei nostri tempi, eh la disumanizzazione del male e spesso purtroppo anche se inevitabile della cura tra l'oggi e il passato. Eh questo ci fa riflettere, ci fa riflettere profondamente, ma soprattutto e ormai ho chiuso, ci fa riflettere quella eh considerazione che ci fa Paolo Diacono sulla peste di Giustiniano, ve l'avevo anticipata all'inizio e vi avevo detto che avrei chiuso proprio con questo, in cui Paolo Diacono ci dice che eh eh la conseguenza peggiore di una eh di una pestilenza non è tanto la morte dell'individuo, non è tanto la perdita dell'armonia, la perdita del centro, eh la eh l'inclinazione di quella magnificenza che è l'assonanza tra macrocosmo e microcosmo, ma è la disumanizzazione degli esseri umani che molto spesso per paura perdono la loro umanità, regnavano lacrime, lutto, vedete? Il volgo credeva di potere fuggendo evitare la morte, si lasciavano vuote le dimore alla guardia dei cani, i greggi, restavano nei pascoli soli senza guida di pastori, fuggivano i figli lasciando insepolte le spoglie dei genitori e questi, i genitori, dimentichi del frutto delle loro viscere, abbandonavano i figli in preda alla febbre bruciante. I seminati, trascorso il tempo della raccolta, aspettavano la falce del mietitore, la vigna, cadute le foglie che all'uva fanno corona, mostrava illesa le uve ancorché si avvicinasse l'inverno, ma soprattutto si mutarono i pascoli in cimiteri e le case intane di belva. La peggiore cosa che possa produrre la pandemia è la perdita della nostra umanità. È il fatto che ci obbliga, se non stiamo attenti, a disumanizzarci. E chiudo con questa immagine, segnando proprio il tempo limite che mi è stato concesso. Perché mentre noi ci preoccupiamo delle separazioni sociali, dei controlli, mentre piangiamo perché non possiamo andare all'happy hour, perché la nostra vita è una vita confinata, a pochi metri da casa nostra, questo è quello che accade. E allora io non vorrei, proprio non vorrei, lo dico come lo dico generalmente chiacchierando con i miei studenti, che avesse davvero ragione Paolo Diacono, cioè che questa disumanità, disumanizzazione ci spingesse a perdere il valore più forte della salute, che è quello non legato al corpo, ma è legato alla nostra comunanza di esseri umani. Persa questa, abbiamo perso la scommessa. E questo non sia mai libera, nos domine. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Angelo. È molto interessante, molto suggestiva, anche nella chiave di una lettura della storia. Quindi forse ci ha insegnato che la storia insegna, che siamo capaci di leggerla. Andiamo alle domande, allora invito tutti a scrivere domande in chat. Grazie. 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 Allora, chiedono tutte le iconografie che lei ha mostrato, dove potremmo ritrovarle? Io vi posso lasciare, tramite il Teatro Club, l'intera produzione del PowerPoint con un'indicazione specifica dei luoghi in cui le potete reperire in originale. Molte, soprattutto quelle manoscritte, sono afferenti alla biblioteca guarneriana. Le altre, quelle iconografiche, hanno un'indicazione precisa in cui ovviamente si possono ritrovare. Quindi, se il Teatro Club è così gentile da aiutare in qualche maniera, non so se questo è possibile il travaso, o se no lascio la mia mail al Teatro Club e poi vi potete direttamente connettere con me, io vi giro tutto il materiale. Non so quale può essere la strada più facile, insomma. Sì, ma beh, può essere senz'altro il PowerPoint, noi lo mandiamo via email, con eventualmente un riferimento di un contatto diretto con te. Perfetto, benissimo. Ci sono vari ringraziamenti per la conferenza. Grazie. Una domanda, secondo lei quale potrebbe essere l'antidoto contro la disumanizzazione? La musica, l'arte in generale, la luce della quale parlava potrebbero aiutare a mantenere la nostra umanità in questa situazione? Che bella domanda, bellissima domanda. Io sono figlio di un personaggio che poi è stato profugo, oppure lui, nella storia sono tanti i profughi. Io quando vedo queste scene rivedo la storia di mio padre, quindi in parte è anche la mia. Sì, altro che se la musica, il teatro, l'arte possono diventare degli strumenti fortissimi. Siamo ospiti del teatro club di Udine. È uno scempio spaventoso il fatto che i teatri siano chiusi. È uno scempio spaventoso il fatto che si possa discutere oggi se tenere aperto o no l'Ariston per Sanremo, quando la categoria di coloro che ci fanno sognare attraverso il palcoscenico, pensare, ragionare, è una categoria che è stata affamata da questa pandemia, oltre a tutto l'aspetto culturale. E questo la dice lunga. È come se noi avessimo già delle medicine per non perdere la parte umana, ma non sapessimo come distribuirle, esattamente quello che accade adesso per i vaccini. Sembra quasi una maledizione, ma è così. Altra domanda. Da chi è rappresentato il capo espiatorio al momento, secondo lei? È una domanda molto, molto difficile a cui rispondere. Sono tanti i capi espiatori, ma io ho sentito nei mesi scorsi indicare così il dito, puntare il dito contro i clandestini che sono portatori di ogni forma di male fisico e morale contro quelli che cercano di assediare, che assediano secondo alcuni ovviamente, la nostra tranquillità e la nostra vita civile portatori di malattie, come sempre. L'altro da noi è sempre considerato il portatore di malattie. E questi sono discorsi molto pericolosi. Vi ricordo che Ausmerzen, cioè il processo che poi condusse al T4 nazista, l'uccisione dei deboli dopo la loro separazione dal corpo sociale, nasce proprio in un momento in cui la società è debole e ha paura di non farcela da sola, e quindi chiude le porte e apre i campi di concentramento o gli istituti di soppressione. È facile scaricare, la soluzione è più facile, generalmente è sempre quella più sbagliata. E la scuola, che è anche la protagonista di questa chiacchierata, è il luogo in cui noi ci abituiamo a elaborare pensieri complessi, che non siano sbrigativi. Questa è una considerazione che ringrazio per la domanda, ma sono contento di aver condiviso con voi. Un ringraziamento che diventa poi una domanda. Grazie, Angelo, per la sua consueta capacità di unire mondi. Immagino che i miei studenti mi faranno le domande che ora tengono per sé. Grazie. A noi ora il compito è di partire da qui. Come tutelarli, però, dall'inquietudine che questo sguardo sul passato getta nel cuore, anche nel nostro cuore? Beh, grazie. Grazie, ovviamente, per le parole, grazie per la domanda. Io penso, facendo loro capire, come d'altronde noi insegnanti facciamo di mestiere, che il passato ci aiuta, forse se non a migliorare, a meglio capire. E quando noi abbiamo la chiave per comprendere le cose, riusciamo anche a serrare, a disserrare un poco le porte del nostro andare su questo mondo, capire, cercare di capire, mettersi alla ricerca dei segni, che non saranno mai gli stessi, perché ogni segno di per sé è irripetibile, però perlomeno ci esercitano in quell'abile, nobile arte che è l'arte della conoscenza, che genera stupore, che genera meraviglia e che ci dà anche gli strumenti per capire meglio chi siamo e come possiamo in qualche modo procedere. E poi anche un'ultima cosa, ce l'hanno fatta loro, ce l'hanno fatta le generazioni precedenti, perché non dovremmo farcela noi? Io dico ogni tanto ai miei studenti, la generazione più bella che l'Italia abbia avuto è la generazione dell'immediato dopoguerra, del secondo dopoguerra, in un paese che era lacerato moralmente, atterrato economicamente, e che cosa hanno costruito? Una delle costituzioni più belle del mondo, una delle più belle, e un paese in cui si pensava, poi purtroppo non è stato del tutto così, che la cultura, l'arte e la bellezza fossero dei linguaggi capaci di far crescere, tutti, non soltanto noi, l'umanità. E insomma, quindi, se loro avranno il compito di ricostruire, forse potranno essere ammantati da un'esplosione di utopia e di idealità, ed è il loro turno. Noi abbiamo fatto il nostro peggio, loro, mi auguro, facciano del loro meglio. Altra domanda, lei ha mostrato testimonianze grafiche degli effetti tragici delle diverse pandemie, ma esistono anche rappresentazioni grafiche per quanto riguarda le cure? Oh sì, certo, certo. Ci sono delle tavole, non le ho inserite per motivi ovviamente di spazio, ma ci sono delle tavole straordinarie ed estremamente precise, che erano proprio ad uso dei medici. Tavole che spiegavano come intervenire per riuscire a lenire, qualora non fosse possibile curare, o a curare. Si parte dal mondo arabo, che era la punta di diamante tra X e XI secolo, per arrivare fino alle grandi tavole illustrate del 1700, che sono splendide, sono bellissime, sembra quasi incredibile, sembra di avere dei referti di anatomia patologica comparata, da fatti da macchine che oggi noi, ovviamente, apprezziamo per la loro precisione. E invece lì erano disegnate, erano esemplate da un punto di vista grafico. Quindi c'è tantissimo. E sono spesso tutti materiali ancora da studiare, perché sono là. Ed è difficile che l'elemento scientifico, l'elemento artistico, l'elemento letterario dialoghino tra di loro. Sarebbe bello che invece lo facessero per restituirle in tutta la loro complessità e bellezza. Altra domanda. Come possiamo imparare a non commettere sempre gli stessi errori e a non essere sopraffatti dalla peste? Intanto esercitando la memoria, poi cercando di essere un po' meno supponenti. Generalmente quando uno ricade nello stesso errore è perché ha un tale ego ipertrofico e sviluppato che crede di non poter sbagliare più. Anzi, è già difficile che ammetta di aver sbagliato una volta. Mentre invece ritenere che l'errore sia parte del nostro andare, forse ci aiuta a capire meglio quali sono i modi per poterlo poi evitare. Quindi io credo che questo possa essere un bel sentiero difficile, ma importante da seguire. Allora, la stessa persona che chiedeva informazioni su rappresentazioni grafiche per quanto riguarda le cure, poi chiede se si potessero allegare magari al PowerPoint, dico io, alcune di queste tavole. Sì, va bene, va bene. Certo. C'è una richiesta di chiarimento rispetto al ruolo delle mappe. Sì. Può essere un po' più chiarito. Sì, sì. Le mappe. Allora, la prima mappa del mondo è il corpo umano. Questo lo si trova ancora in alcune rappresentazioni di popoli che noi impropriamente chiamiamo primitivi. Mappe, noi stessi siamo la misura delle cose. Si diceva nell'umanesimo, ma questo gli esseri umani l'hanno sempre capito. L'uomo delle caverne usciva fuori e sapeva che poteva misurare su di sé la componente cosmica. Se uno ci pensa, no? Il nostro cranio, il mio, e me si vede anche bene perché è privo di vegetazione, è la volta celeste. Gli occhi sono il sole e sono la luna. E poi ovviamente, come abbiamo detto, ci sono anche tutti gli elementi che vengono rappresentati. Questa mappa mundi, questa mappa del mondo, passa attraverso il corpo, per prima cosa. La psicologia dell'età evolutiva lo ha evidenziato. I bambini conoscono la realtà attraverso un contatto con il loro stesso corpo. Si mettono le mani in bocca, le dita se le mordicchiano, si toccano. Hanno bisogno di esperire l'altro da sé attraverso il sé. Questo poi, da un punto di vista razionale, ha avuto un'espressione enorme nella grafica. I primi mappamondi, le prime tabule, comprese quelle tolemai, che spesso rappresentano il mondo inserito in un contesto di corpo umano. Le rappresentazioni delle abbazie sotto forma di corpo umano, per esempio il corpo mistico del Cristo che si sovrappone al corpo del mondo. Ma anche nella cultura classica questo c'era. Basta pensare allo zodiaco, come il cielo stellato diventi storia e la storia è fatta di segni e i segni sono l'evidenza anche nella medicina, per esempio. E questo apre a delle grammatiche che diventano molto spesso mappe per potersi orientare. Altra domanda, qual è stato il ruolo delle donne durante il periodo della peste? È un ruolo importantissimo, cambia notevolmente a seconda del contesto, del periodo e della regione. Ci sono delle regioni in cui le donne sono molto emancipate. Tra X e XIII secolo, in area per esempio cosiddetta norrena, quindi tutta l'area che noi chiamiamo vichinga, le comunità erano rette da donne, c'erano dei matriarcati fortissimi, perché gli uomini se ne stavano via per molto tempo. Questo intorno al 1500-1600 lo ritroviamo addirittura nella nostra Carnia, dove sono le donne a gestire anche l'aspetto sanitario all'interno delle loro comunità. I maschi sono lontani, sono a cramà, si portano dietro la crame, questo armadio in cui contengono i beni che devono scambiare, e quindi la comunità di villaggio per la maggior parte dei casi è gestita dalle donne. I rettori veneti in terraferma ci descrivono di intere comunità in cui i capi famiglia sono le donne, e sono loro che gestiscono la situazione, spesso entrando in connessione con i saperi arcaici, i decotti, le erbe, le erbe officinali, la raccolta di certe bacche, certe cure ereditate della tradizione, viste con grande sospetto della Santa Inquisizione, tra l'altro, e che invece venivano utilizzate, non curavano. È ovvio, la peste non poteva essere curata, ma sicuramente lenivano, e la donna è colei che si prende cura, molto di più del maschio, è quella che cura, è proprio lo strumento principale dell'esercizio della medicina. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, abbiamo a disposizione ancora un po' di minuti. Grazie. 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 Approfitto di questo vuoto per chiedere ad Angelo. Mi ha molto colpito il discorso sulla cura con i profumi, no? Anche perché mi è venuto in mente che il Covid priva dell'olfatto e quindi ci priva di una delle possibilità di cura. È vero, è vero. Non ce l'avevo pensato, grazie. È verissimo. L'aromaterapia poi è qualcosa di antichissimo, no? Ha anche degli elementi sacrali. Le divinità si pregano con l'incenso, con gli incensi, si bruciano gli odori, proprio perché diventano aria e l'aria raggiunge le sfere celesti molto da vicino. Si parla di odore di santità nel mondo cristiano, mentre invece il male è sempre rappresentato con un odore cattivo, con un fettore. È vero, il Covid ci preclude la possibilità di annusare o di gustare. È una maledizione. È come se ci togliesse la possibilità di curare. E questo Muzio Frangipane, insomma, sì, è stato un grande mastro profumiere. Una specie di anticipazione di Susskind, il grande libro. Un Susskind friulano, insomma, no? Il personaggio... Un'altra domanda. C'è qualche connessione tra la peste e le streghe? Sì. Grazie, grazie per questa domanda. Certo, avrei dovuto dirlo. Ci sono molte connessioni. Non è soltanto l'ebreo ad essere indicato come il colpevole dell'epidemia, della pandemia, ma tutto ciò che viene considerato diverso. Quelle donne che spesso si prendono cura dei malati, che lo fanno tradizionalmente perché sono le curatrici del paese, vengono viste con grande sospetto dai santi inquisitori, spesso su istigazione dei medici, dei medici ufficiali accreditati che guardano con raccapriccio il fatto che la popolazione andasse molto più volentieri a farsi curare dalla guaritrice del paese, piuttosto che spendere soldi per andare da un medico che tra l'altro si trovava anche lontano, magari in città. E quindi ecco che spesso finiscono nelle maglie della Santa Inquisizione che le accusa di essere non delle guaritrici, ma delle malefiche, come venivano chiamate, delle benefiche, cioè delle distributrici del male, delle untrici, che si mettevano in contatto con il demonio proprio per disseminare la peste nei villaggi, volando spesso attraverso i loro voli astrali, uscendo fuori dai loro corpi, come leggiamo dai resoconti dei tribunali della Santa Inquisizione, e cospargendo il mondo di queste cose malate, di queste cose avvelenate, che potevano essere anche oggetti lasciati cadere, appoggiati, unguenti spalmati sui banchi, sugli stipiti delle porte, per esempio. Quindi ecco tutto questo ha a che fare sempre col pensiero magico e quindi la stregoneria entra di peso direi soprattutto intorno al 1600, però non tanto prima, 1500-1600. Vediamo se c'è ancora qualche domanda, diciamo che se no ci abbiamo la chiusura. Grazie. Grazie a tutti. Bene, allora se non c'è... Ecco, un'ultima domanda. Da chi venivano organizzate le forze mediche durante le pandemie nel Medioevo? È interessante anche questa domanda. Venivano organizzate dalle comunità. La comunità esprimeva i suoi saggi, venivano chiamati così, erano delle forme quasi di consiglieri, se volete, e alcuni di questi erano saggi alla salute pubblica e quindi esistevano dei veri e propri gabinetti operativi, dei gruppi operativi che agivano. Sono andato veloce su di una diapositiva perché poi proprio non c'era più tempo. Avevano anche facoltà di preparare dei veri e propri salvacondotti molto simili alle nostre autocertificazioni, con tanto di bollo della comunità. Quando arrivò a Venezia 1420, questo aveva il sigillo di San Marco, il leone di San Marco, ed erano pre-stampati sostanzialmente, esattamente come accade oggi. Le autorità poi te li chiedevano nel momento in cui passavi. Se tu avevi questa certificazione rilasciata dal medico, potevi uscire al di fuori del contesto del tuo paese, se no venivi preso e portato in prigione perché è considerato rischioso. Quindi sì, il Medioevo ha una sua organizzazione sanitaria molto, molto precisa, molto attenta. Pensate che la scuola sanitaria medica di Salerno nasce prima di Federico II, l'Università di Napoli, che ne porta ancora oggi il nome, fu uno dei centri, assieme a quella di Padova, di grandissima conoscenza, medico-sanitaria. Questo è un errore pensare che il Medioevo sia un secolo di strani alambicchi e di formule voodoo, insomma, si fondava su conoscenze molto importanti. Il tempo è scaduto, grazie a tutti, a Angelo Floramo, agli insegnanti, gli studenti, la società Antract che ha curato il supporto tecnico. Questa conferenza è stata registrata e sarà pubblicata sul canale YouTube di Teatro Club Udine per essere visionata nuovamente dai partecipanti di oggi e da quelle classi che non hanno potuto collegarsi in diretta. Prossimo appuntamento, domani giovedì 4 febbraio, la terza conferenza del progetto Ragazzi in Piazza, relatrice Antonella Sbuelz. Buona vita a tutti in questo tempo di Covid. Arrivederci e grazie. Prossimo appuntamento, domani giovedì 4 febbraio,